Siamo qui oggi a Canale, abbiamo firmato il protocollo di chiesa con Lega Ambiente, provincia di Chiesa e comune di Vasto per restituire ancora una volta questo luogo ai cittadini vasti. Questo è un luogo bellissimo, abbiamo pensato di firmare questo protocollo per instaurare un'idea rispetto a una spiaggia ecocompatibile, deve essere un presidio di legalità e pensiamo anche, siccome vi coinvolge anche le scuole, per fare un po' di educazione ambientale, questo è un luogo molto bello, a due parti della pista ciclabile, quindi ancora una volta l'amministrazione, grazie al sinico Francesco Mende e a tutta la giunta ha portato a termine un'operazione di grande importanza ambientale e quindi questo luogo oggi lo restituiamo ufficialmente alla città e che insieme a Lega Ambiente ci sarà anche un presidio di controllo, tant'è che qualche giorno fa ci siamo accorti che ci sono state anche organizzate le feste e qua non autorizzate, quindi crediamo che deve essere accessibile da tutti ma nel rispetto dell'ambiente e soprattutto nel rispetto degli altri usufruitori di questo posto bellissimo.